Premio OPI BAT 2018, convegno formativo, campagna social, mettiamoci la faccia. Sono le tante iniziative confluite in occasione della celebrazione della giornata internazionale dell'infermiere. Così l'ordine delle professioni infermieristiche della BAT, assieme alla CNAI, ha promosso un evento formativo con l'obiettivo di diffondere l'importanza della cultura della donazione e del trapianto di organi e tessuti. Ma non solo, l'incontro, organizzato presso la Chiesa San Giovanni Apostolo a Barletta, è stato anche impreziosito con la premiazione delle tre migliori tesi di laurea nel settore. Dopo un attento lavoro della Commissione, delle 15 tesi arrivate ed esaminate, ad aggiudicarsi i primi tre premi sono state le dottoresse Francesca Chiara D'Ercole, Nunzia Moccia e Angela Di Benedetto. Noi come ordine delle professioni infermieristiche della provincia Barletta Andrea Trani abbiamo voluto seguire lo slogan lanciato dalla FNOPI, quindi lasciamo il nostro impronte sul sistema salute di questa provincia. abbiamo dato la possibilità a tre neolaureati, quindi abbiamo dedicato un premio a loro, abbiamo premiato la migliore tesi proprio per favorire la ricerca e sviluppare la disciplina infermieristica. In occasione della giornata nazionale dell'infermiere è stata anche lanciata la campagna social Mettiamoci la Faccia per promuovere la donazione di sangue e per garantire il diritto alla salute. In questa giornata dedicata alla donazione parte oggi la campagna social Cancelletto Mettiamoci la Faccia dove infermieri della consulta giovane, una commissione di lavoro di quest'ordine professionale lancia appunto la cultura della donazione del sangue in collaborazione con l'Avis.